La redazione del Valdostrano vi presenta Radio Web Il Valdostrano, informazione ed intrattenimento. Siamo a Valdostrano? Perché i migliori sono strani. Non sei un Valdostrano. Perché il più strano è meno strano. La prospettiva è il Valdostrano. Comunichiamo ciò che siamo e scommettiamo su ciò che facciamo. Buongiorno a tutti amici ascoltatori. Oggi per piccola scena per un grande film, Gabriele ci parlerà del film Fracchia contro Dracula. Bene Gabriele, parlaci un po' di questo film. Sì, con piacere. Si tratta di una pellicola, ne è tanto, un cult, con regia di neri parenti. Come cast c'è il superbo e mitico Paolo Villaggio, il grande esperto attore Gigi Reader e la superba Isabella Ferrari. Ed ora, la regia ci potrebbe descrivere un po' di estratti del film? Lei, lei mi ha fatto perdere il piatto e avevo un poker servito. Su, 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 non faccia il bambino, signor Conte, ma lei non sa proprio perdere. Io non ho mai perso, mai. Ah, ma lui è, 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 è Dracula. Sì, io sono Dracula, il principe delle tenebre. Finalmente mi avete trovata. Chi è? Che cos'è, un canarino? No, è la signorina Luna. Ah, la signorina Luna. Sta bene? Abbiamo ancora alcune ore di sonno. Prima che Dracula si svegli, approfittiamone. Dracula? Dracula. Allora, che dobbiamo fare? Guardate nel mio zaino, ci dovrebbe essere un coltello o un qualcosa. Dovete liberarmi. Bene, e ora, Gabriele, ci puoi dire la frase che hai scelto di questo film? Sì, volentieri. Ah, ho trovato, c'è un collettore di legno. Ma che fa? Quello no, quello è il paletto di Frassino per uccidere Dracula. Benissimo. Adesso vorrei sapere un po' la trama del film, ce la puoi raccontare? Sì, con piacere. Gian Domenico Fracchia è un venditore di casa e un agente immobiliare, disperato che sta per essere licenziato dal suo capo. Un giorno si presenta a questa signora, ragione Arfilini, che ora a tutti i costi è una bella casa nei rintorni di Roma. Fracchia, arrivato sull'oro della disperazione, gli consiglia un castello in Transilvania, facendoli credere che si tratta di una superba villa. In realtà, questo castello, in Transilvania, è abitato dal conte Dracula con sua sorella la vampira. Dopo una serie di vicissitudini, Fracchia e Filini dovranno riuscire a liberare la ragazza che è stata impregionata da quelli dei suoi servitori e scappare per far ritorno in Italia. Benissimo. Per finire questa intervista, Gabriele, ci puoi dire a chi... si potresti dire a chi lo consiglieresti questo film? Bene, volentieri. Consigliere questa pellicola cinematografica, a tutta la famiglia si tratta di un bel calto ogni 80, una commedia appassionante, leggera e divertente, con protagonisti, appunto, questi attori molto conosciuti e, come volta, le do un bello 8,5. E, tra l'altro, vi do una piccola chicca e una curiosità, questo film è stato girato al bellissimo castello di Fenis, sia all'interno che all'esterno, e quindi consiglia a tutti i valuturisti che vuole andare a visitare questa fortezza, che è davvero bella e ben costruita e ben congeniata, e ne ha visitato ogni anno da molti turisti. Grazie dell'attenzione e a risentirci alla prossima puntata con il gruppo Levaldo Strano. Ciao. Grazie a tutti, D'Aldo, e alla prossima. Buongiorno amici e benvenuti per la rubrica I personaggi della nostra storia. Oggi vi presentiamo i conti di Shalang. Vediamo insieme chi sono, in che periodo storico hanno vissuto? I Shalang sono stati una famiglia di nobili valdostani, vissuti dal XVI secolo. Hanno goduto di un grande potere durante il Medioevo e il Rinascimento, periodo durante il quale hanno governato gran parte della Valle d'Aosta per conto dei Savori. Da chi viene usato per la prima volta il nome Shalang? Il nome Shalang viene usato per la prima volta dal Borgione II, nel porto di Borgione I, dopo aver ricevuto da Savoia il castello di Villa e la signorina di Shalang, nell'Otriana Valle d'Aosta. Chi fu il primo conte di Shalang? François fu il primo conte di Shalang e fu anche il primo a disegnare sua erede universale e quindi anche nella carica comitale la figlia Caterina. La decisione di François di opporsi alle decisioni enunciate dalle udienze generali suscitò violenti contrasti all'interno della grande famiglia Shalang, i cui numerosi rami erano desiderosi di impossessarsi dei beni, dei diritti e soprattutto del titolo. Intervenne il Duca di Savoia imponendo la sua autorità e pretendendo di incameramento i beni, senza però riuscire ad impedire che i vari contendenti ricorressero all'uso delle armi. Caterina, dopo aver sposato il cugino Pier di Sarriò, signore d'Intrò, avviò una vera e propria guerra contro tutti coloro che minacciavano la sua reddita. Quando il marito morì, Caterina dovette cedere i diritti che aveva difeso strenuamente a Jacques di Shalang, signore di Amoville, che divenne il secondo conte di Shalang. Con René, quinto conte, si presentò lo stesso problema. Anche lui non aveva figli maschi e quindi decise di lasciare tutto alla primogenita filiberta che compromise il suo futuro di contessa con fuga d'amore. Nel testamento René di Shalang diseredò la figlia e al suo posto istitui a re di universale la sua figlia Isabella, che sposò Jean-Fédéric, divenuto così il sesto conte di Shalang. Quando si estinse la famiglia? La famiglia si estinse nel 1804 con la morte di Filippo Maurizio, ultimo discendente maschio di casa Shalang. Nel 1802 era morto a soli sette anni Giulio Giacinto, fra un nipote di Filippo Maurizio. Nel 1837 morì Teresa, l'ultima donna della famiglia e con lei finisce la disinastia di Shalang. Dove si può trovare una via a loro dedicata? La via Conte di Shalang si trova nel comune di Saint-Bensin, in una zona residenziale. È una via lunga, confinante con il comune di Châtillon, che porta per la strada per il Cor de Joux e la Val d'Aià. Ma che cosa hanno fatto per la Valle d'Aosta? I Shalang hanno edificato vari castelli. I più famosi sono quelli di Fenis, di Sogno e di Verres. Infatti, grazie a questi monumenti, hanno lasciato al popolo valdostano un vasto patrimonio artistico, che varia dai quadri agli affreschi sui muri, dai superletti agli elementi architettori. Da ricordare inoltre il famoso Carnevale di Verres, una rievocazione storica di Caterina di Shalang. Cos'è accaduto di importante durante la loro storia? Nel 1802 la Repubblica Cisalpina fu ricostituita come Repubblica Italiana e il Piemonte venne anesso alla Francia. 26 gennaio 1802. Inoltre, Napoleone costituita costituendo la Repubblica, mette come capitale Milano. Grazie per le informazioni. È un grande contributo per la rubrica e i personaggi della nostra storia. Salutiamo tutti gli ascoltatori del Val Dostrano e grazie a tutti voi. Grazie amici ascoltatori. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e a risentirci alla prossima portata con il Val Dostrano.